Prima ha sfidato e ingabbiato i pastori, adesso vuol far tacere il popolo. Il dittatore del Nicaragua, Ortega, ha dato ordine di vietare le processioni della settimana santa, riti sentitissimi e partecipatissimi nel paese centroamericano, a grande maggioranza cattolico. Ma dopo 40 anni al potere, l'ex rivoluzionario sandinista è sempre più dispotico e paranoico. Ultimamente ha rotto i rapporti diplomatici col Vaticano, definito un posto di mafiosi, e ha fatto condannare a 26 anni di galera il vescovo di Matagalpa, Rolando Alvarez, che si era rifiutato di lasciare il paese con 222 prigionieri politici arrestati con lui ed espulsi negli Stati Uniti, non prima che venisse loro tolta la cittadinanza. Arrestato, pestato ed espulso anche un religioso claretiano panamense, padre donassiano Alarcon, che ha osato celebrare la processione delle palme e nella predica ha citato proprio il vescovo Alvarez. Negli ultimi 16 mesi, 21 preti incarcerati o esiliati, decine minacciati e messi sotto sorveglianza. La polizia circonda le parrocchie per impedire via crucis clandestine. Ci hanno detto che possono svolgersi solo intorno alle chiese, ha confermato il presidente della conferenza episcopale del Nicaragua, Herrera. Non resta che pensare a uno squilibrio della persona. È come riportare la dittatura comunista o italeriana. Così in una recente intervista a Papa Francesco su Ortega, che adesso prende di mira il popolo del Nicaragua con le sue devozioni, la sua fede.